Ciao ragazzi bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Oggi andremo a vedere il nuovo aggiornamento alla 0.8.6 Aggiornamento che ci ha dato i nuovissimi cacciatorpedinieri francesi Che vedremo tra pochissimo, nello specifico abbiamo inoltre Vediamo immediatamente Allora, guida completa no, aggiornamento 0.8.6 Abbiamo anche le battaglie di clan, formato 6 contro 6, una sola corazzata a disposizione E potremo ricevere fino a 8.750 di acciaggio Nessuna portaerei molto molto importante per le varie tattiche Andiamo a vedere inoltre che abbiamo esattamente le battaglie classificate L'8 agosto avvieremo una nuova stagione di battaglie classificate La tredicesima stagione che abbiamo visto un po' di tempo fa nel video Un po' di giorni fa vi ho fatto vedere quale navi personalmente andrò ad utilizzare Mappe e modalità di gioco Abbiamo insomma un piccolo cambiamento come potete vedere dal mouse che si muove destra a sinistra La mappa grecia è stata aggiornata con l'aggiunta del tempo soleggiato Poi andiamo a vedere che nell'armeria è stato aggiunto Armeria, sezione armeria, abbiamo aggiunto 5 nuovi capitani storici Fate attenzione, costo 1500 di dobloni e 10 punti abilità Abbiamo inoltre delle nuove mimetiche per quanto riguarda l'incrociatore flint Dico bene, abbiamo poi dei miglioramenti tecnici Vediamo un pochino di seguire Ok, miglioramenti tecnici che vanno a toccare il modello di illuminazione Che è stato per l'appunto aggiornato Poi abbiamo migliorato il sistema di anti-aliasing Che rimuove, lo leggo così Che rimuove le increspature quando la qualità rendering del mare Nelle impostazioni grafiche è impostata su medio o superiore Inoltre il flusso delle texture dinamiche è stato migliorato Ciò migliorerà leggermente le prestazioni in battaglia Tutto molto bello Modifiche al bilanciamento di gioco Questa è una parte molto importante Soprattutto per chi utilizza gli incrociatori L'incrociatore Henry francese di livello 10 Il tempo di ricarica è aumentato da 12.3 fino a 13 secondi Mentre quello della Indenburg è sceso da 11 a 10.5 Cambiamenti anche per quanto riguarda i cannoni Della batteria secondaria su incrociatori Sugli incrociatori di livello 8 10 Tirpitz, Bismarck e Graf Zeppelin C'è un piccolo errore però Se dobbiamo essere precisi Perché le Tirpitz e Bismarck sono delle corazzate Abbiamo poi il tempo di ricarica dei lanciosi Lurie Gehring da 136 a 122 Abbiamo il tempo di ricarica del cacciatore peniere Grozovoi Da 4 a 4.2 secondi E poi via via tutti gli altri cambiamenti Il Chungmu, lo Yueyang, lo Yutland Eccetera eccetera Abbiamo inoltre contenuti aggiunti e cambiamenti Abbiamo una nuova mimetica Chiamata Rosso Fuoco Che fornisce i seguenti bonus Mimetica per quanto riguarda l'incrociatore Moskva Se mi sto mangiando un po' di parole ragazzi fate finta di nulla Sto cercando di andare più velocemente possibile Per andare al succo del video Che sono i cacciatore penieri francesi Tanto ormai siete abituati Altri cambiamenti e miglioramenti Abbiamo qui una lista bella completa Direi che non c'è nient'altro da vedere Ah, un'ultima cosa molto importante La corazzata oaglio è stata aggiunta Per i vari test Quindi la vedremo in futuro, futuro, futuro Adesso andiamo a vedere nel dettaglio Magari l'armeria cosa propone E poi, anzi facciamolo subito Armeria Abbiamo, come detto I cacciatore penieri I comandanti Guadagna gettoni della repubblica Giocando con navi di livello 7-10 Ok, solito discorso Soliti gettoni Solita zona Suppongo Aggiunta Eccellente Ok, eccola qui Marina francese Qui abbiamo una sezione dedicata Con l'aggiunta Dei gettoni della repubblica Attenzione C'è scritto C'è una durata Che Dove si possono ottenere E utilizzare Per l'appunto Questi Gettoni Qui abbiamo i pacchetti Qui abbiamo Suppongo che siano Delle navi Esattamente Incrociatori Fino al livello 8 Anzi Cacciatore penieri Per essere preciso Cacciatore penieri Cacciatore penieri Ok, tutti i cacciatore penieri Fino a 500 gettoni 150 Poi il costo Per un Container Cacciatore penieri Francesi Insomma Le solite cose Ragazzi Adesso Andiamo a vedere Il piatto forte Del video Ovvero I cacciatore penieri Francesi Per cercare Di capire Come Sono E allora Eccoci Con i cacciatore penieri Britannici Però Facciamo attenzione Subito Colpo di scena C'è un Prossimamente Su alcuni Di essi Quindi Non possiamo Vedere Le caratteristiche Del cacciatore penieri Di livello 2 Del cacciatore penieri Successivo Ovvero Il livello 3 Intanto Ve le faccio Vi faccio vedere Come sono Abbiamo poi Il cacciatore penieri Di livello 4 Che monta Cannoni Da 130 Fate attenzione Almeno questo Lo possiamo Vedere Poi Possiamo Vedere Il livello 5 Ovvero Il Lo Jaguar Non so Come si legge Cannoni Da 130 Tempo Di ricarica 6.6 Abbiamo Una gittata Massima Di 12.1 Velocità 35.5 Abbiamo I siduri Che arrivano Fino A 8 Km Nulla Di particolare Fino A questo Momento 12.8 Per quanto Riguarda La vita Andiamo Avanti Con il Cacciatore penieri Guepard Abbiamo Una velocità Di 36 Nodi Guadagniamo Qualcosa Il Calibro Sale A 139 Tempo Di ricarica 5.6 Gittata Massima 13 Km Molto Interessante Abbiamo Sempre Una Gittata Dei siduri 8 Km Tempo Di ricarica 90 Secondi 14.200 Per quanto Riguarda L'integrità Base Che potrà Salire Fino A 17 Punto 200 Abbiamo Poi Il livello 7 Cannoni Sempre Da 139 Abbiamo Dei cannoni Singoli Tempo Di ricarica 5 Secondi Il tempo Di ricarica Scende Ulteriormente Velocità 36 Nodi Gittata 13 Siduri Sempre 8 Km Vita Totale Con lo Scafo B 18.100 Punti Andiamo Al livello 8 Le Fantas Livello 8 Non leggiamo Come 42.7 Nodi La velocità Qui Mi sorprende Particolarmente Abbiamo Cannoni Sempre Da 139 Una Gittata Di 13 Km Siduri Un po Deludenti Per quanto Mi riguarda Perché Sono abituato Con quelli Giapponesi 8 Km Abbiamo Una vita Di 18.500 Punti Ovviamente Parliamo Di navi Senza Le skill Del comandante Per quanto Riguarda Il livello 9 Saliamo A 43.5 Nodi Abbiamo Torrette Binate Fate Molta Attenzione Gittata 12.8 Siduri Sempre 8 Km Ragazzi Abbiamo Sempre 8 Km Veniamo Spottati A 9 Km Però Ovviamente Non abbiamo Nessun Modulo E Comandante A bordo 20.200 Per quanto riguarda La vita Al massimo Il livello 10 Sinceramente È molto Bello Estetica È carino È bello Abbiamo Quattro Torrette Binate Da 139 Quindi Il tempo Di ricarica Dovrebbe Essere Più O Meno Lo Stesso Rispetto A Quello Che Abbiamo Visto Precedentemente Poi La Gittata Potrebbe Essere Sempre Un 13 Km E Una Velocità A Questo Punto Suppongo Che Sia Sui 42 Nodi Come Quella Del Livello 9 I siluri A questo Punto Lo Ripeto Per L'ultima Volta Non Penso Che Mi Andranno A Stupire Più Di Tanto E Quindi Mi Aspetto Un 8 Km 8 Km Su Delle Torrette Come Vedete Abbiamo 3 Torrette 3 Tubi Su 2 Torrette Quindi Un Totale Di 6 Per Lato Per Un Totale Di Tutta La Nave Di 12 Siluri Che Non Sono Pochi Attenzione Potrebbe Essere Un Ramo Abbastanza Diciamo Simpatico Da Sbloccare Però La Nave La Vedo Abbastanza Grande Sembra Molto Grande Potrebbe Avere Qualche Problema Di Virata Rispetto Ad Altre Navi Staremo A Vedere Ovviamente Quando Verranno Rilasciate Tutte Le Informazioni Del Caso Abbiamo Anche Delle Missioni Da Dover Completare Disponibile Una Nuova Direttiva Stai Attento E Non Avere Pietà Per Gli Avversari Abbiamo Come Sempre Le Nostre Direttive Con Le Missioni Da Dover Completare Ogni Missione Ci Darà Delle Ricompense Sotto Forma Di Container Caccia Torpediniere Francesi Come Vedete Ci sono Anche Le Bandiere Che Ci Danno Come Premio Abbiamo Sette Missioni Da Completare Man Mano Che Passa Il Tempo Come Vedete Verranno Sbloccate Le Altre Direttive Nulla Cambia Rispetto Alle Cose Che Abbiamo Già Visto In Passato La Classica Diciamo Scalata Delle Classiche Quattro Direttive Nulla Di Complicato Ragazzi Questo Era Il Video Per Quanto Riguarda L'aggiornamento La 0.8.6 Spero Di Non Essermi Scordato Nulla Mi Sono Mangiato 800 Parole In Questo Video Ma Va Bene Così Fatemi Sapere Nei Commenti Cosa Ne Pensate Di Questi Cacciatorpedini Francesi Che Così A Prima Vista Non È Che Mi Abbiano Colpito Più Di Tanto Forse Verso La Fine Ci Siamo Sollevati Abbastanza Una Cosa Molto Importante Che Mi Stavo Scordando Meno Male Che L'ho Vista In Questo Istante Il Simbolo Della Francia Ovvero Data Di Termine 20 08 2019 Premio Per Una Vittoria Ottenuto Con Questa Nave Può Essere Ottenuto Una Sola Volta Quindi Qualora Aveste Queste Navi Di livello 10 Di livello 8 Insomma I vari Livelli Ogni Nave Avrà La Sua Diciamo Missione Che Se Completata Ci Darà Dei Gettoni Repubblica O Altrimenti Ci Darà Del Carbone Se Ho Visto Bene Quindi Più Navi Avete Più Risorse Riceverete Nulla Di E Chi Se Lo Scorda Ragazzi Video Terminato Grazie Per L'attenzione Io Come Sempre Vi Ringrazio Per I Like I Commenti E Le Visualizzazioni E Niente Video Terminato Un saluto Anche Da Una Bellissima Zao Molto Bella Molto Potente Abbiamo Anche Il Porto Del Francese Marsiglia E Nulla Non ci Vediamo Alla Prossima Ciao Ciao